Una vittoria sofferta ma alla fine arriva il 3-1 per il volley soverato che così riesce a raccogliere altri tre punti dopo quelli di Cisterna. Siamo con una delle protagoniste della gara, Lara Caravello, una partita veramente entusiasmante, avvincente ma anche sofferta da parte vostra. Alla fine siete riusciti nel quarto set a rimontare da 1-11, quindi veramente un'impresa. Sì, siamo state molto brave anche perché in questi casi solitamente si rischia di perdere la concentrazione e perdere soprattutto la voglia di vincere. Invece siamo state brave, ci siamo compattate e abbiamo trovato insieme una soluzione per uscire da quel momento di difficoltà. Avete sofferto in diversi frangenti di gioco però siete state brave a non mollare anche in un momento di grossa difficoltà come quello del quarto set dopo i primi due set che comunque seppur con un po' di sofferenza eravate comunque riusciti a portare a casa. Sì, certo e ovviamente non è mai facile giocare contro squadre che comunque ci studiano molto molto bene e in più l'allenatore di là conosceva due giocatrici, anzi tre, che erano con noi quindi le conosceva a memoria e quindi noi abbiamo dovuto cercare di trovare delle soluzioni alternative per riuscire a portare a casa questi tre punti importantissimi. Anche per quanto riguarda la tua prestazione personale penso potrai essere soddisfatta sei stata chiamata in causa in più di un'occasione e poi nel quarto set nel momento decisivo c'eri anche tu in campo per la rimonta. Sì dai, diciamo che grazie alle mie compagne che siamo riusciti a portare a casa questo set mi hanno aiutato, mi hanno dato la forza e mi hanno soprattutto spinta a giocare bene. Coach Stefano Sai, arrivano altri tre punti importantissimi per il Vole Soverato soprattutto alla luce di quel quarto set e di quella grande rimonta, una partita chiusa sulla 3-1 ed una squadra che ha dimostrato in un momento di grossa difficoltà di non mollare e quindi una prova anche di carattere della sua squadra. Io sono contentissimo di questa partita, soprattutto di quello che è successo nei primi due set dove abbiamo noi imposto il nostro gioco. Poi ci siamo persi, ci siamo persi nel terzo, ma nel quarto set sotto 11-1 siamo riusciti a non mollare, le ragazze hanno continuato a crederci e piano piano abbiamo rosicato tutta la differenza e abbiamo vinto il set con una prestazione veramente di carattere da parte di tutte quante con una menzione particolare per chi è entrato a partita in corso come Caravello che ha dimostrato una notevole solidità di poter entrare in campo e dare il suo contributo in maniera eccezionale questa sera. Io sono veramente contento. Dovevamo fare tre punti, li abbiamo fatti, li abbiamo fatti anche con una prova di carattere. Ci siamo messi in difficoltà da soli, è vero, ma un mese fa un set sotto 11-1 non l'avremmo vinto. Oggi stiamo parlando di una vittoria da tre punti, importantissima per la classifica. Può questa vittoria, anche per come è maturata, dare una svolta anche a livello psicologico a questa squadra che ha dimostrato oggi che quando è sotto pressione invece può rimontare a dispetto magari di altre volte dove si avvertiva di più l'attenzione in questo caso invece la squadra è riuscita a recuperare e alla fine ha chiuso sul 3-1. Noi stiamo crescendo, ormai non è più il tempo di svolte. È un percorso che ci sta accompagnando dall'inizio. Stiamo crescendo giornata dopo giornata e questo è stato un altro passo importante dove abbiamo dimostrato che possiamo crederci sempre, che dobbiamo crederci sempre e i risultati poi arrivano. Oggi praticamente sono scesi in campo tutte le giocatrici, ha fatto ricorso a tutto il roster per cercare di arrivare a questa vittoria, indice del fatto che chi è stato chiamato in causa come lei diceva prima Caravello ma anche le altre che sono state chiamate in causa si sono fatte trovare pronte. Sì, noi siamo in 11, in 10 adesso che Mariana ha avuto un piccolo acciacco ma come ho detto nella partita scorsa noi siamo in 11 e ognuna di noi, ognuna di loro ha delle caratteristiche ben precise e sono contento che ogni volta che chiunque viene chiamato in causa è capace e in grado di dare il proprio apporto. Coach Luca Secchi, un ritorno sicuramente emozionante qui a Soverato dopo la bellissima stagione dello scorso anno. Alla fine perde il Mondovì 3-1 al termine di una partita molto sofferta e combattuta e sicuramente il rammarico c'è per quel quarto set dove eravate avanti 11-1. Sì, il rammarico c'è per il quarto set bruttissimo, per come l'abbiamo perso. Il rammarico c'è per il primo set in cui abbiamo messo la bellezza, i 10 errori punto credo nei primi 15 di Soverato, veramente abbiamo fatto di tutto per regalare la partita. Credo che, non temo di essere smentito in questo, penso che abbiano giocato le due squadre più brutte di questo campionato, una partita con contenuti tecnici e tattici veramente imbarazzanti e purtroppo noi siamo stati più imbarazzanti di loro quindi abbiamo perso sta partita. Però, vabbè, insomma, pazienza. Per quanto mi riguarda siamo giovani, dobbiamo tirare fuori un po' più di carattere, un po' più di esperienza da maturare, speriamo in un girone di ritorno molto meglio del girone d'andata e Soverato credo che sia invece una squadra, insomma, per le proprie ambizioni ancora un po' squilibrata, probabilmente il fatto di non avere più la straniera qualcosina ha portato via, però credo che anche loro una squadra in crescita, che abbiano molto da lavorare e bocca al lupo a tutte e due, perché per me tornare qui è stato un sacco emozionante. La prima volta credo che è gioco a Soverato da avversario e non sento il tifo così imbarazzante. È stato bellissimo. Per quanto riguarda invece la sua squadra, conferma comunque l'aspetto caratteriale, nel senso che è una squadra che lotta, che non si arrende mai, come era successo anche in altre partite di questo campionato sin qui. Questo sicuramente è un buon biatico per il futuro, perché sappiamo che il lavoro è duro da fare per questa squadra ricca di giovani, però hanno dimostrato quantomeno voglia di lottare. Mosella mi dà del lei e questa cosa per me è veramente emozionante, io ve lo confesso. Noi purtroppo siamo la squadra sicuramente più giovane di questo campionato e più inesperta di questo campionato. Questi due dati non sono minimamente opinabili, sono due dati oggettivi e quindi l'unico modo per riuscire a combinare qualcosa di buono è mettere sotto il profilo dell'atteggiamento, qualcosa in più magari rispetto agli avversari, altrimenti siamo inevitabilmente destinati a cadere. Il girone d'andata, ripeto, è stato per noi molto difficile, un po' per l'esperienza, un po' per ambientamento, anche il fatto di aver giocato con tutte le squadre molto forti in casa nostra e quelle un po' più abbordabili fuori casa, di certo non ci ha aiutato, quindi speriamo che un po' l'intervento sul mercato e un po' il girone di ritorno invece ci dia una marcia differente e si possa un po' cambiare la storia di questo campionato.